E concludiamo questa mattinata storica con la relazione del dottor Enriques che è l'amministratore delegato della Zanichelli di Bologna e che ci parlerà del ritorno al primo amore di Zanichelli e Darwin. Non vorrei abusare della vostra educazione, quindi se qualcuno vuole lasciare la sala non mi offendo assolutamente. Dunque passo con 1859 succedono tre cose, finisce il dominio degli austroestensi qui a Modena, Nicola Zanichelli comincia la sua attività di editore pubblicando due grossi libri su documenti del malgoverno estense e lo stesso anno a Londra John Murray pubblica L'origine della specie. Murray era l'editore di Byron e anche l'editore del geologo Lyle che qui avete sentito nominare. Murray non credeva molto in questo libro, voleva stamparne 500 copie. Lyle lo convinse a farne 1200 che furono vendute in pochi giorni, quindi già allora gli editori erano molto preveggenti, come capite. Dopo questi due libri sui documenti estensi, praticamente per cinque anni, fino all'84, Zanichelli pubblica pochissimo. Pubblica in tutto, qui a Modena, 15 libri, nessuno dei quali tranne due codici superiori alle 100 pagine. Quindi in realtà la traduzione dell'origine della specie, che ha pubblicato nel 64, è il primo vero libro pubblicato dalla Zanichelli. Tale era l'impegno per allora che uscì in due dispense, ciascuna delle quali venduta a una lira e 75. Canestini era in contatto ovviamente con Darwin e quando diede la notizia della pubblicazione in Italia, Darwin ne scrisse a un suo amico a Ucker, dicendosi molto contento, perché era la quinta traduzione internazionale, ed era la prova del successo del libro, e non coglie l'occasione di prendersela con un suo nemico. Dice, ho saputo che Owen, che era un suo avversario ed era un paleontologo, quello che ha inventato il nome Dinosauri, Owen ha detto che la mia opera durerà solo per dieci anni, invece vedete che durerà molto di più. La cosa buffa è che allora dire che un libro durava dieci anni sembrava dire che durava poco, oggi è un libro che dura dieci mesi, già è un libro che dura molto. Dopo questa pubblicazione del 64, le strade della Danichelli e dell'evoluzione di Darwin un po' si separano. Intanto Danichelli dopo un po' si sposta a Bologna e qui nel 74 pubblica, ecco questa è la lettera di Darwin in cui dice che è l'edizione italiana, pubblica invece un libro di un anti-evoluzionista, che anche oggi è stato nominato, Bianconi, lo pubblica in francese, è un libro di grande impegno editoriale con illustrazioni eccetera così, e peraltro Bianconi era in fitta corrispondenza con Darwin, cioè era un, Darwin sia pure come avversario lo stimava. Nel 75, un anno dopo Danichelli comincia a pubblicare Carducci e prende una strada diversa. La scienza praticamente si attenua nel catalogo della casa editrice, torna prepotentemente nella prima metà del secolo scorso, ma torna come fisica, cioè pensate ai libri di Einstein o ai libri di Fermi. Per avere un ritorno della biologia e dell'evoluzione bisogna aspettare gli anni 60. e ci sono alcune direzioni. Innanzitutto pubblichiamo una serie di libri per spiegare su chiavi moderne, e quindi ovviamente tenendo conto che nel frattempo, non che sia nata la genetica, ma insomma la genetica ha preso un posto centrale nella biologia, libri a livello universitario. Cito tre, l'evoluzione di Savage, che è un libro del 65 che è ancora in catalogo, e poi i due libri di Futuima, il secondo, l'evoluzione dell'anno scorso, e forse il libro a livello universitario nel mondo più importante, che fa il punto sull'evoluzione, ad esempio di recente, in una di queste paginone d'occasione, Corbellini l'ha utilizzato come laboratorio per confrontare le due edizioni, 84 e 2008, come prova dell'evoluzione e della teoria dell'evoluzione. Cioè cosa è cambiato in questi anni nella teoria dell'evoluzione. Ma soprattutto la teoria dell'evoluzione è anche, la cosa è meno ovvia, al centro dei grandi libri di biologia molecolare su cui si formano le basi scientifiche degli studenti di oggi, la biologia molecolare del gene e soprattutto la biologia molecolare della cellula. C'è una frase in un capitolo di questo libro di Alberts che mi sembra significativa, dice che questo capitolo, come tutto il libro, tratta del progressivo passaggio dalle molecole agli organismi pluricellulari, tratta dell'evoluzione della cellula. Cioè la cosa sorprendente oggi quotidiana è che una teoria nata prevalentemente su osservazioni macroscopiche e è diventata il motore della biologia, delle cose piccole, della microbiologia e della virologia e di tutto quanto. C'è un altro piano su cui penso di poter dire che Danichelli ha dato un contributo all'introduzione dell'evoluzione, dell'evoluzione in Italia, ed è, sono le pubblicazioni scolastiche. Io ho studiato, a fine degli anni 50, nelle scuole superiori, su dei libri di biologia in cui la teoria dell'evoluzione appena c'era come una teoria come altre. Invece i libri moderni, e ne cito due, La Bollia Bollia delle Cellule e il Cartis, che vedremo dopo, hanno la teoria dell'evoluzione al centro. Sono libri abbastanza diffusi, forse qualcuno che ha meno di 45 anni su uno dei due avrà studiato qua. Ad esempio il BSCS non è chiaro se è un libro più molecolare o più evoluzionista, ma certo, ad esempio, quando vuole dare un'idea di come lavora uno scienziato, partendo da un'ipotesi e verificandola sperimentalmente o nei fatti, usa la teoria, lo studio di Darwin sulla formazione degli atolli. Ed è una pagina che credo che tutti gli studenti che hanno memorizzato, sia per le cose che sono scritte, sia per i bellissimi disegni. E noi di questa pagina ce ne siamo ricordati a un certo punto, tre o quattro anni fa è andata all'asta di Cristo una lettera di Darwin a uno studioso tedesco in cui parlava proprio di atolli. Cioè questo studioso tedesco aveva contestato la sua teoria, lui gli chiedeva dei chiarimenti. E noi siamo riusciti a comprare questa lettera di Darwin, che è questa, che sta a Bologna. L'altro libro di cui parlavo è questo di Elena Cartis. Nelle successive edizioni la Cartis si è aggiunta un'altra biologa, si chiama Sue Berns. E questa è una storia singolare. Questa Berns era una giovane predattrice di una casa editrice, che un giorno l'editorio ha detto, guardi, nei prossimi libri di biologia dobbiamo dare uguale spazio alla teoria dell'evoluzione e alle teorie contrarie. Lei ha preso le sue carte e se n'è andata via. Ha detto, no, cambio lavoro. E questa è stata l'occasione per cui poi è diventata, ha conosciuto Elena Cartis, è diventata coautrice. Voglio ricordare ancora, che non c'entra in questo quadro, un libro bello, cioè è una biografia di Darwin scritta da Bolbi. Bolbi è uno studioso di psicologia infantile, soprattutto dell'attaccamento alla madre. Quindi ha cercato di applicare le sue teorie non solo a Darwin scienziato, ma al caso clinico umano di Darwin, che era molto interessante. E ne è venuta una biografia che ha sia aspetti scientifici, ma anche tratta molto bene tutto il quadro familiare, sia del ruolo del padre, che qui è stato ricordato, ma soprattutto della famiglia della madre e della moglie, perché Darwin ha sposato una cugina. questa famiglia, questa famiglia Vedwood, il signore che sono qui, forse conosceranno questo nome per le ceramiche. E sono quelli delle ceramiche Vedwood. Ed era una famiglia importante che ha avuto un ruolo nella vita di Darwin. Qui c'è, ma vicino alla fine, in occasione del centenario della morte di Darwin abbiamo ristampato l'edizione, quella che avete visto qui tante volte, l'abbiamo stampato un'altra volta nel 2004, forse in non casuale coincidenza con quando volevano togliere Darwin dai programmi scolastici. e adesso siamo arrivati al centenario e ci siamo trovati di fronte a un bel problema. Cosa facciamo? Ristampiamo questo libro? E la prima idea era di ristampare. Poi è venuto dei dubbi. Francamente noi non avevamo pensato a ristampare la primissima edizione. Avevamo pensato semmai di ristampare la successiva, cioè l'edizione UTET fatta da Canestini sulla sesta edizione, semmai aggiungendo una cosa che nell'edizione UTET non c'è e che è una cosa dal punto di vista della tecnica editoriale stupenda, cioè una pagina scritta da Darwin in cui lui cita tutti i punti in cui ci sono differenze fra la sesta edizione e le precedenti. Punto per punto, qui ho aggiunto questo, ho aggiunto questo, una specie di guida alla consultazione della nuova edizione per chi già aveva letto la precedente. Che è una cosa, un vero capolavoro di tecnica editoriale che seguratamente non hanno tradotto. Poi abbiamo deciso di non farlo. Abbiamo deciso di non farlo per tre ragioni. Uno perché, insomma, ci sembra che sia più coerente con il nostro ruolo editoriale far capire l'importanza che ha oggi la teoria con un libro come il Futuima che ho fatto vedere prima. Seconda ragione è che una delle lezioni di Darwin è che le specie si estinguono e anche i libri è giusto che abbiano una fine, cioè non si vede perché anche i libri non debbano estinguersi. E la terza ragione sempre che ci insegna Darwin è che qualche volta un no conta come un sì. Mi riferisco a quando con grande cortesia Darwin ha detto no a Marx che voleva dedicargli il secondo volume del Capitale. però no l'ha detto. E qui sono giunto alla fine. All'oggi e invece vado qui scome abbiamo parlato sempre di tanti anni fa tantissime belle figure invece io vorrei proiettarmi fra 50 anni. Cioè oggi sapete che il quadro è un po' mutato cioè l'editore Murray non c'è più o meglio è una sigla di una casa editrice francese. L'Utet che ha ripreso le pubblicazioni di Darwin dopo Zanichelli non è più un editore indipendente è una sigla della De Agostini. Anche le ceramiche Wegwood ahimè sono fallite con la crisi l'anno scorso quindi non ci sono più nemmeno le ceramiche Wegwood. Allora mi domando cosa succederà fra 50 anni? Io non ci sarò più. Da Zanichelli non lo so. Gli avversari di Darwin ci saranno di sicuro rumorosi sui media e silenti nella letteratura scientifica ma soprattutto ci saranno ancora le sue idee al centro della biologia. Grazie.